Ribadisco di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia. Lo ha nuovamente detto il governatore Lombardo Roberto Formigoni, che secondo organi di stampa risulterebbe indagato per corruzione e finanziamento illecito nell'ambito dello scandalo sanità. Intanto nel mirino politico c'è finito l'assessore alla sanità Luciano Bresciani. All'interno della Lega molti vorrebbero la sua sostituzione con un esponente maroniano. Il giorno della libertà è vicino, la libertà è dietro l'angolo, non passeranno molti giorni che leggerete una notizia incredibile. Lo ha detto ieri sera Umberto Bossi, parlando dal palco di una festa della Lega Nord a Ceriano Laghetto. A giorni ha continuato Bossi, un sogno diventerà realtà. Il leader del Carroccio ha confermato la sua volontà di continuare a pesare nella Lega Nord, ribadendo comunque che il movimento ha bisogno di unità e non di divisioni. Ai militanti che urlavano Bossi segretario, Umberto Bossi ha detto avrò ancora molti poteri. Arrestati i presunti assassini del cileno 22enne Carlos Fernandez Moia, ucciso a coltellate lunedì della scorsa settimana in via Piattoli, nella zona di via Padova a Milano. Le manette sono scattate i polsi di due connazionali della vittima, un minorenne di 15 anni e un'altra persona di 29. Gli investigatori stanno adesso indagando per capire il movente dell'omicidio. Dopo molte polemiche arriva domani a Milano il Dalai Lama. Alle 10.30 il leader tibetano entrerà a Palazzo Marino dove terrà un discorso in consiglio comunale. La massima autorità spirituale buddista ha accettato l'invito del comune dopo la mancata consegna della cittadinanza onoraria di Milano. Oggi la Guardia di Finanza festeggia il 238esimo anniversario dalla fondazione del Corpo. A Milano cerimonia al Teatro Dal Verme. Presenti alla manifestazione il comandante interregionale per l'Italia nord-occidentale, generale di Corpo d'Armata Vincenzo delle Femmine. Far aslogiare dalle case popolari chi ha occupato abusivamente, arrecando danno alla collettività e cercare invece una sistemazione a chi si è preso un alloggio per disperazione come le ragazze madri. Sono queste le intenzioni di Palazzo Marino che ha in preparazione circa 150 sgomberi mirati. L'ondata di sgomberi partirà dalle zone Zama, Salomone, Niguarda e Stadera. Da oggi obbligo di timbrare i biglietti dai tornelli di uscita anche nella linea 2 della metropolitana. Si parte con le stazioni Gioia, Loreto e Colonio Monzese. La avvidimazione dei biglietti in uscita avviene tra le 9.30 e le 16.30. L'Italia è in semifinale degli europei 2012 di calcio. Giovedì incontrerà Varsavia alla Germania. Gli azzuri di Prandelli hanno battuto meritatamente ai rigori con quattro reti a due la nazionale inglese. Preoccupazioni adesso per le condizioni di De Rossi che ha accusato un forte dolore al nervo sciatico, in forse la sua partecipazione alla semifinale.